Salve a tutti, con una sentenza depositata ieri 17 giugno il Consiglio di Stato si è pronunciato nuovamente su uno dei numerosi ricorsi pendenti in merito alla richiesta dei diplomati magistrale di inserimento nelle graduatorie d'esaurimento. Con la pronuncia di ieri il Consiglio di Stato probabilmente ha messo la parola fine a questo lungo contenzioso, in quanto richiamando i principi enunciati dalle note sentenze della donanza plenaria dello stesso Consiglio di Stato del 2017 e del 2019, nonché della Corte di Cassazione da ultimo del febbraio scorso, i giudici di Palazzo Spada hanno ribadito dei principi di diritto che devono ritenersi ormai consolidati nella giurisprudenza sia amministrativa che ordinaria, ossia che le pronunce di annullamento del DM235 2014 che negava l'accesso alle GAE ai diplomati magistrali non sono da ritenersi sentenze e eventi efficaci o generale che quindi sono estensibili a tutti e non essendo la natura di atti di annullamento ed efficacia generale i decreti successivi di aggiornamento delle GAE non devono ritenersi nulli secondo le sentenze del Consiglio di Stato. Inoltre il Consiglio di Stato ha ribadito l'inidonetà del semplice diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 a costituire titolo idoneo per l'accesso alle graduatorie ed esaurimento consentendo soltanto la partecipazione alle procedure abilitanti o ai concorsi. La cosa in più che però emerge da questa sentenza di ieri del Consiglio di Stato è che sono stati ritenuti rilevanti anche gli eventuali contratti a tempo indeterminato stipulati dal Ministero in favore dei docenti diplomati inseriti in GAE con riserva. Secondo i giudici del Consiglio di Stato infatti l'amministrazione si sarebbe determinata alla stipula dei contratti a tempo indeterminato e quindi dell'immissione in ruolo in mera esecuzione dei provvedimenti cautelari emessi nei giudizi pendenti e quindi non determinandosi autonomamente. Quindi venendo meno il presupposto per la stipula di questi contratti, ossia l'inserimento in GAE in seguito alla definizione in senso negativo del relativo giudizio, questi contratti andrebbero a decadere automaticamente. Ancora irrilevante risulta per il Consiglio di Stato anche l'eventuale posizione di, la mancata posizione di clausole di riserva nei contratti. Sugli aspetti successivi al depennamento dalle GAE però il Consiglio di Stato rimanda eventualmente al giudice del lavoro perché rientrerebbe nella giurisdizione del giudice ordinario la valutazione circa la legittimità della risoluzione dei contratti a tempo determinato in seguito alla definizione dei giudizi innanzi al giudice amministrativo. Vedremo come si evolverà la giurisprudenza. Vi invito a continuare a seguire il sito della tecnica della scuola per i nuovi aggiornamenti e i canali social e il canale YouTube. Arrivederci e grazie.